Nonno, dove buttiamo l'olio? Dove vuoi buttarlo? Dentro al lavandino! No! Non dovete buttarlo nel lavandino! Venite a vedere questo video! No! Sì! Usa l'apposito contenitore Non fare questo errore Lo sai che un solo litro di olio e sasto gettato nelle fognature non rende più potabile i milioni di litri di acqua uccidendo così animali e piante acquatiche Quindi se vuoi smaltire correttamente il tuo olio raccogli in un contenitore e portalo nell'isola ecologica più vicina a te Ora che hai capito abbiamo una missione da compiere Conto su di te! Su, su, superolio ti aiuterà a salvare l'umanità